Ciao ragazzi, oggi presentiamo l'ultima novità di Casualcane, il Valcianum nella versione più grande, ovviamente è il fratello maggiore del Valcianum classico che tutti conosciamo, più grande perché? Oltre ad avere una sagoma più grande ha un peso sicuramente maggiore, parliamo di 4 grammi contro i 2,8 grammi della versione tradizionale. Io in questo caso l'ho innescato sul punto di innesco frontale perché? Perché ho il pesce che praticamente è piantato sul fondo e quindi piuttosto che un recupero ovviamente o a saltelli o costante a canna alta, preferisco proprio fargli muovere ancora più terreno visto che il fondale è pulito in questo caso, facendo proprio una manovra del genere, facendolo strusciare proprio sul fondo. Lo vado a recuperare come un classico spoon, in maniera molto molto lenta. Lo vado a muovere con una Dyslave 61GL RevF con un poliester torii 0,5 2,1 litri. Questo ci consente grazie al peso dei 4 grammi anche di uscire molto di più nel lancio, sia grazie al peso ma sia grazie all'azione dell'estero che scorre molto. Attendo, mi vedo la artificiale da sul fondo, inizio il mio recupero. Grazie a tutti I Ovviamente sono diversi mesi che è nel lago quindi sa come combattere, nel nostro caso l'abbiamo preso fuori a parata vocale quindi non è valida, ecco perché anche tirava in questa maniera.